Giulietta vuole prendere il marito il più presente Romeo? Sì, Romeo vuol prendere il moglie la più presente Giulietta? Ma sì! E allora, e allora, vi dichiaro marito e moglie. Musica! Appuntamento d'eccezione al Teatro Maruccino con la grande prosa con un piacevole fuori programma. A metà spettacolo il regista presentatore Enrico Castellani ha invitato il sindaco Diego Ferrara a salire sul palco per sposare i protagonisti Romeo, interpretato da Ugo Pagliai, e Giulietta, Paola Gasman. I due attori avevano scelto proprio il Maruccino per il riallestimento di Romeo e Giulietta una canzone d'amore da William Shakespeare con le due repliche andate in scena sabato e domenica scorsa. Una scelta non casuale vista la lunga collaborazione tra i due attori protagonisti, Pagliai e Gasman, e il compositore e regista Cavuti, direttore della stagione di prosa del Maruccino, che li ha voluti per la particolare mesta in scena della pièce. Davide è veramente un caro, carissimo amico e devo dire che è molto profondo nelle sue scelte, profondo sia per la musica sia anche per i versi e quindi io mi sono trovato molto bene, credo anche lui insomma molto bene quando abbiamo fatto dei recital e delle cose. E' veramente una persona di primissimo ordine, un direttore artistico che migliore è difficile trovarlo.